Cherry Season 2. Puntata martedì 6 giugno 2017. Il video compromettente. Anticipazioni. Pensavano di avercela fatta, ma secondo le anticipazioni della puntata di martedì 6 giugno 2017 i protagonisti di Cherry Season 2 scopriranno che il loro matrimonio è nullo. Infatti Oiku e Ayaz verranno a sapere una cosa incredibile sull'uomo che li ha sposati. Inoltre a complicare le cose, la H.R. farà una scoperta sconvolgente che la spingerà a piantare in asso il Dyncer. Di cosa si tratta? Prima parte. Oiku e Ayaz sposi. Dopo tante avversità, Oiku è finalmente riuscita a sposare il suo Ayaz, ma la felicità dura poche ore. Infatti la H.R. e il Dyncer riceveranno la visita di un uomo durante il cuore della notte e si tratta del vero sindaco del paese, Kelly per dargli una brutta notizia. L'uomo che hanno incontrato è in realtà un ex sindaco impazzito e di fatto non poteva sposarli. Ai due ragazzi crolla il mondo addosso e dovranno parlare della vicenda anche con la polizia. Proprio mentre Ayaz si preoccupa di dir loro come si sono svolti i fatti, sul cellulare del Dyncer arriva un video spedito da Onem. A prendere il telefono in mano in quel momento sarà la H.R. che inizierà a guardarlo. Seconda parte. Oiku lascia Ayaz. Quando Oiku inizia a guardare il video, scopre che Ayaz ha scommesso che l'avrebbe conquistata in tre mesi e che avrebbe addirittura accettato di sposarlo. La delusione della H.R. nel sentir dire quelle parole proprie dall'uomo che ama infinità e guardandolo negli occhi, prende la sua borsa e se ne va lasciandolo da solo. Quando Ayaz controlla il cellulare capisce cos'è accaduto e gli dice che questa volta non riuscirà a farsi perdonare. Ma sa che la colpa di tutto è di Mete, il quale ha conservato quello stupido video, e di sua madre, che ora sarà contenta di averli separati. Ma il Dyncer questa volta è davvero furioso e decide di affrontare l'U.R. Ultima parte. Mete geloso. Mete nel frattempo viene a sapere che Oiku ha litigato con Ayaz e si sente soddisfatto per aver messo in atto la sua vendetta contro il suo ex amico. Anche One e Mongola nel sapere che la H.R. non ha retto nel vedere il video, ma entrambi ancora non sanno che il Dyncer ha deciso di sistemare le cose una volta per tutte. Nel frattempo Burcu e Sibel hanno ancora grossi problemi con i loro rispettivi uomini che, offesi per il loro sciocco comportamento, hanno deciso di far capire alle donne che potevano evitare di prendere a martellate gli orologi regalati. Emre poi si sente davvero molto ferito dalla fidanzata, la quale teme di poterlo perdere. Cosa accadrà adesso a Oiku e a Ayaz? Non perdete le prossime anticipazioni della sua popera turca Cherry Season, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. 5.ile 이랑